buonasera vestiace bentornati credibile ma vero con le nuove cuffie con le nuove con le viste le novo è sembra un cretino non c'è molto da fare però vorrei prima rispondere non c'è il cavo vorrei prima rispondere a un nostro caro 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 followers che si scrive da telegram si chiama daxin scusate come faccio a giocare con voi caro daxin e non lo sappiamo caro daxin adesso ti spiego stasera incredibile ma vero giochiamo insieme demonologist ma sì ci si sente sì che la horror night dedicata all'occulto paranormale e noi estirpiamo il para e rimane solo il normale insomma da queste mura anche se noi di normale poco siamo tutti noi siamo ognuno con le sue particolarità siamo dei diversi di merda quindi ecco oggi facciamo questo ma lo facciamo insieme e come si fa molto semplice a breve voi di telegram voi sab voi sab avete telegram ve lo ricordo sempre ma poi dopo come come faccio a scrivere una telegram linkate telegram per favore a quel punto lì su telegram verrebbe noi metteremo il codice la password del server e a quel punto voi potrete entrare nella server molto semplice veramente molto semplice e quindi daxin caro caro piccolo daxin spero di aver risposto alla tua domanda esatto esatto sì sì su telegram su telegram raga sondaggio va bene incredibile ormai 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 è veramente tanto un meme che non capisco più chi lo dice seriamente o chi lo dice scassare io vi dico già che sto male ho un emicrania e una cervicale coerente e ho e ho con questo paio di cuffie tra l'altro che perché adesso vi spiego con questo paio di cuffie no no sono col cavo solo che è nascosto dalla barba col cavo solo che è nascosto dalla barba solo che queste cuffie qua sono quelle che coprono il rumore e io sentire il mio battito cardiaco nel mentre che ho l'emicrania il risultato è un continuo stile sento questo sento il mio respiro sento quando respiro ogni singolo suono del corpo lo sto sentendo amplificato e mi sta urtando i nervi quindi sarà così per circa un'ora e mezza ed è una vergogna io la tecnologia inizio ad odiarla perché più si va avanti più ti dà fastidio non so come sia possibile sento la legge la legge del boomer più avanti più la tecnologia diventi un boomer guardate guardate c'è una testa minuscola poco giuta lo so sono microcefalo come che fai non toccare c'è da dire che queste cuffie sono enormi infatti non le sento perché hanno questa questa sono sono poco poco pesanti perché hanno questa particolare non ce l'è addosso stanno fluttuando non ce l'è addosso stanno fluttuando in realtà allora in realtà io ho una testa sono normodotato dal punto di vista encefalopode no come che si dice sei tu quello che sei leggermente tu hai una testa enorme andrea pure lunga prende freezer la trasformazione di freezer quella lunga mi ricordo io quando ho pensato io ho poche ricordi di quando ero piccolino ma mi ricordo che mia madre ci faceva vedere la fotografia di sua madre poco dopo aver ecco rilasciato il pupo ed era sfinita era sfinita perché andrea aveva questa testa troppo troppo intelligente e c'era questa questa donna si sono bianco ragazzi questa donna sfatta con questa sorta di roger di american dead in braccio perché andrea ha questa testa è un xenomorfo lo sapete ormai sono bianchissimo girati di profilo guardate che profilo che profilo da imperato no veramente c'è cazzo incredibile incredibile ragazzone e quindi in sostanza funziona così allora un gringo un grigio si si un grigio anche un gringo perché no ma è normale di no beh no non è normale considerata la mia che non c'è la parte dietro infatti io non ho paura perché non ho non provo paura come vi dico sempre in live perché non proprio proprio l'amigdala io non non posso sentire ma anche se si mancano proprio manca ieri ti ho picchiato ovviamente in modo goliardico perché ieri ho fatto il carcere ho messo anche noi due ho messo anche andrea cop tv e dino cop tv ieri ti picchiavo twitch contestualizza in termine ludico non con un odio sì ma un odio ludico stavo facendo il mio lavoro stavo facendo il mio lavoro un secondino stavo facendo esattamente il mio lavoro ah ok ok va beh quindi in sostanza oggi giochiamo insieme ma prima prima di giocare insieme io vorrei vedere con voi un video interessantissimo di un gioco interessantissimo a tema horror interessantissimo su steam che è appena uscito che si chiama paranormal tales che è un titolino che porteremo a breve guardate un po amici del web vuol dire paranormal tavoli abbiamo un piccolo problema di regia aspettate il servizio dovrebbe arrivare a breve eccoci qua eccoci qua dicevo paranormal tales guardate che meraviglia è tutto fish eyes è tutto fish eyes è tutto fish eyes la ora odio la telecamera mi è piaciuto tg simulator insomma in sostanza qualcuno entra in casa tua e ti disfa casa e questo è paranormale potrebbe essere benissimo mio padre che c'è la mattina che la roba la dovrò giocare cristo dio no ma voi siete fuori di testa ecco io salgo così le scale la notte per andare a pisciare per tornare non c'è da cagarsi sotto ragazzi forse questo sarà uno dei giochi più inquietanti che giocheremo quindi quindi sta usando una gopro la al signore qua no non ti girare minchi aah cattroia vacca bastarda io lo sapevo sbocco night comunque giustamente e non si sa quando cazzo c'è il coraggio c'è scritto non c'è if you dare si si non non ed è questo qua per chi ha già visto il trailer perché sicuramente qualcuno di voi l'avrà già visto a real ovviamente quello fatto con a real engine six five four che appunto va a ricreare l'effetto fisheye che è più o meno lo stesso concetto del nuovo gioco che ha fatto scarpore al ricordo al record al record al low la gente è impassita vabbè il fisheye il fisheye rientra nel realismo ma come cazzo si fa ma come ti viene in mente ma tiragli un calcio anche l'iphone fa le riprese grandangolari col fisheye voi voi utenti apple correggetemi se sbaglio scusatemi veramente tanto me ne vergogno ed eccoci qua vabbè questo qua è il trailer ragazzi che abbiamo già visto più e più volte però questo è il trailer che avete appena visto invece quello prima precedente e quello nuovo e già mi fa capire quindi che ci sono diverse ambientazioni e diversi anche mostri quindi sarà sarà un gioco bello pregno buono mi fa piacere perché lì per lì pensavo sarebbe stata una cacata esce il giorno preciso da annunciare lo sai come funziona siamo in quel periodo storico del gaming dove i giochi c'è scritto escono ci annunciano escono quando è la data d'uscita? 2023 si va ad anno non si va più esce ci siamo questo è ormai non possiamo più sapere un cazzo e tra l'altro hanno fatto pure un video di IGN exclusive dove hanno dato la pre-alpha a chiamiamoli con il loro nome a questi giornalisti a questi stronzi in work in progress del gioco ovviamente la mia è una stronzi con simpatia sono epiteti di ovviamente di come trattate con i colleghi d'ufficio o è stronzo? sì assolutamente io mi ricordo che una volta un tizio entrò in chat qua dicendo ciao figlio di puttana è stato bannato da ogni piattaforma disponibile sul web perché mi ha insultato senza un esatto motivo però fa ridere però ci fece ridere a tutti quanti a tutti quanti noi effettivamente il famoso hello madafuck sì 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 assolutamente ma beh in italiano fa più impressione però perché hello madafuck è una roba sì perché in americano è più un intercalare ormai invece con abbiamo un piccolo problema di regia chiedo scusa invece con ciao figlio di puttana mi ha un po' destabilizzato ovviamente queste cose le possiamo dire perché finalmente ci hanno bannato da tiktok live quindi siamo liberi di poter esprimere i nostri una libertà una libertà che oggi non la sentivo da anni sì sì ho proprio un peso che mi si è tolto dalle spalle allora facciamo una roba però bando alle stranzate iniziamo a giocare io direi di far partire qui il demonologist che c'è in noi quindi via già vedo già vedo chi di voi ha acquistato il gioco furbetti già qua vedo che chi di voi oggi ha comprato il gioco per la prima volta avete sciocato per noi allora aspetta un attimo vediamo un po' se parte funzica tutto qui così ti saluti è vero non saluti più arca miseria ragazzi sono rincoglionito in sti giorni in sti giorni di maggio in sti giorni ah ma è vero tra l'altro scusate per l'apposito di maggio avete visto ieri il video col maestro sapete cosa vi aspetta il 2 maggio veira ci vediamo ragazzi chi di voi è nel Lombardo ci si vede a Milano se vi va ovviamente il 2 maggio per l'evento di Redfall che si chiamerà Redfall Party la fantasia dove noi appunto ci beviamo ci mangiamo tutti quanti un hamburger e ci beviamo un calice di sangue tutti quanti insieme in onore al gaming in onore all'uscita sarà ovviamente più che altro per noi l'onore di incontrarvi finalmente un raduno e di vedervi di nuovo quindi venite ragazzi venite adesso poi vi daremo il link per tutto eccetera eccetera però io adesso ho un problema intanto vi saluto Sienna Guide poi che abbiamo Valek Imperius Greenwich Star Ludovico Caffè Caldo Matti Fudo Ombretta Guerriera poi Anakin HW Pusher Devil Ops Burgitam non ce la faccio non posso stoppare stavolta è impossibile Mion qualcosa Isabello Ruken Blame Ccost allucinante allucinante poi qualcuno di nuovo i nuovi i nuovi dai I'm I'm che? non ho letto Becky Neck Selvaggia Gracie dame una mano Andrea perché io stasera non riesco te lo dico è troppo veloce Horizon Polifemo Zadek bentornato bentornato ciao Zadek Pixie Dragon Angry Fana Philips Lord Akami Da Duxerli ho letto Gay non so se sia giusto Smeriglio Donte Imperius Imperius Silesia Miriam e l'ultimo Enesu Enesu giusto? Enesu Twitch una roba del genere credo di averlo azzeccato grande grande credo di averlo azzeccato allora madonna lag perché? allora però il codice devi dirmelo prima in modo privato e tu lo scrivi sì 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 in modo privato entro e poi lo metto su Telegram multigiocatore crea lobby no attenzione attenzione ci sono diverse lobby ci sono lobby c'è Fey Müller 2 Milus e Neve ma l'amore con il sapore leva la visibilità dello schermo lo so dopo quattro anni mi devi dire come cazzo fare lo so com'è che si fa a creare il nome della lobby però ospita 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 allora quattro giocatori lingua ma un po' tutte vanno bene bergamasco non c'è regione Europa il bergamasco è odioso il diretto bergamasco crea olè allora sei pronto Andrea? ok devi mandarmelo devi mandarmelo in un posto preciso allora aspetta eh minchia è già mi sto incazzando allora ragazzuoli vi ricordo che adesso su Telegram vi comparirà la chat e il coso e il maestro vabbè avete capito ma faccio prima faccio prima scriverlo direttamente io su Telegram no no perché dopo entrano tutti tranne me quindi prima mi invio la mail entro io e poi dopo hai proprio ragione è meglio nascere come te nascere no no lo dirò non lo dirò ok ok lasciamo un po' di questo qua è il codice che veramente sembra un insulto è vero ma perché non lo so allora lo metto lo sto mettendo lo sto mettendo lo sto mettendo per lui qua c'è il dialogo la mia linea di dialogo durante la prima volta grazie stufa veramente la prima volta che mangiavo che mangiavo gelato il maestro saggio sì sì il maestro saggio io ho bisogno di una di una bella di una bella di una bella caramella per la gola qui che hanno visto di tocco le perle del giorno porco giuda mi stanno uccidendo quei video ok sono entrato ve lo metto su telegram arrivo che cazzo era era qui non c'è più tu hai visto le mie caramelle per la gola è così che ci inizio dove erano lì mi dice dove erano non dove sono arrivo ok l'ho messo su telegram i primi due a entrare entrino ragazzi fidatevi di me ve lo dico ragazzi con attenzione ambretta e pari Pierluigi eccovi qua bestiaci incredibile bentornati benvenuti bentornati allora voglio un gioco pulito ciao 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 amici cari amici forno allora voglio un gioco pulito dobbiamo riuscire c'è i capelli verdi per lui ah non vi vedo capelli verdi posso chiedervi una cosa prima di iniziare no dipende dica dipende ah ma non mi senti se parlate lì noi vi sentiamo troppo in ritardo parleremo parleremo con la chat quando vi quindi chiudete la chat chiudete la live andrea 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 stai un attimo zitto perché ti sento quadruplo per favore mi stai turbando comunque complimenti per i capelli verdi aspetta un attimo d'affetti anche dov'è che espelli no no dov'è ma perché bastardi si nasce diceva il maestro audio eccolo qua dov'è la chat eh però così non sento loro e questo è un problema di fatto questo è un problema eh no la chat la chat la chat la chat vocale devi metterla forse dovresti mutare a me su disco ah è di muto te su disco orde parliamo tutti con chat vocale ragazzi sarà l'unica allora datemi un attimo di tempo eh sai cosa sembra quel personaggio verde lì che mi ricorda il tizio del trailer di Dead Island è proprio il gioco quello che poi muore allora fermi ragazzi datemi un attimo di tempo perdonatemi stiamo lavorando ok ok è mutato ma non t'ho mutato fermo quindi si parla solo con la chat di gioco esatto ma perché non testimone delle iene lei che è successo ok ma chi lei lei perché ce l'ha buon giocato ah beh devo ancora capire come separare le cuffie nuove eh guarda ti capisco al 100% è uno di quelli è uno di quelli che parla addio non ti sentiamo non mi sentite ma come non mi sentono beh se non mi rispondono credo che la risposta sia ovvia no non ti sentiamo aspetta 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 non ti sentiamo non ti sentiamo non ti sentiamo no dillo un'altra volta per favore Andrea grazie mille ah perché mi da microfono no è tutto sbagliato adesso ora si perfetto non mi aveva selezionato il microfono delle cuffie allora che tipo di items avete nella vostra borsetta dai fuori niente sono povero lei invece ah questo questo oh l'ho comprato solo per giocare con voi quindi ah questo è un grande onore allora ragazzi bisogna essere però preparati in qualche ma non i capelli violi i capelli verdi i capelli rossi io non ho capelli direi che abbiamo fatto un'ottima ah ci hanno due donne guarda che guarda dove siamo ah ci hanno due donne un romanzo rosa ragazzi sta per uscire scritto dal maestro ah ci hanno due donne votate la mappa per favore come si fa benissimo siamo in buone mani adesso sai che andrea quasi quasi io mi personalizzerei il mio pupazzo per renderlo effettivamente magari calzature mettiti la barba cosa c'è sì sì c'è e dov'è potrei farlo anch'io ma dov'è la barba è su parte inferiore immagino no ma non c'è ma non c'è ci sono solo gli occhiali busto testa busto testa come si fa quando vai su personalizza personaggio in basso a destra c'è personalizza personaggio è stato bellissimo grazie aspetta aspetta sì sì c'è la barba il signor il signor per luigi qua c'è due cazzo per paolo o per luigi aspetta non devo leggere ah ci sono già allora è quelle testa ah boh non riesco oh però è mutande non va bene come fa come non riesco ma testa ma come faccio a cambiarla preset testa guarda sei peggio di sei peggio di cioè stiamo aspettando testa ma io voglio cambiarla testa mi cambia sesso ma voglio cambiarla testa mi cambia sesso completamente in linea con il 2023 ma voglio cambiarla testa mi cambia sesso non ti sentiamo come non mi sentite pronto pronto non funziona non funziona lasciate vocare vabbè ragazzi mi tengo così va perfetto allora dai partiamo se no qua non iniziamo più via let's go 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 chi muore per primo attenzione pronostico classico direi ci sta ci sta ci sta allora attenzione abbiamo Scarlett Johansson che Andrea mi spieghi cosa stai combinando ma mi sentite allora un attrezzo a te mi sentono ma hanno deciso di ignorarmi strategia vincente che potrebbe portare al successo di questa squadra ovviamente io farò un commentary del commenting del gaming della sessione di gioco allora ragazzi siete pronti come come volete allora ognuno si porta uno strumento le torce però sono due come facciamo una l'ho rubata io allora la candela ce l'hai tu tu hai la torcia e tu per per luis bravo bravo scarafaggio scarafaggio e questo allora io mi sciapo sulla torcia quello per dopo quello dopo e mi prendo anche mi son preso gli uviva anzi no mi prendo mi prendo mi prendo la tela almeno possiamo vedere se a questo punto prendiamo tutto effettivamente strategia intelligente del maestro basta perdere tempo ma guarda ragazzi sono 250 metri quadri composti da giardino e atrio interno in realtà è difficile perdersi abbiamo un salotto con vista il giardino è una merda ma noi la vendiamo così com'è guardate che meraviglia il tetto appena rifatto mi deve scendere un po' mi deve scendere un po' questo giardino è un disastro no ma mi sei sceso tu proprio eccoci ah no aveva letto il nome del demonio qualcuno torna indietro a leggere il nome del demonio io vado io a leggerlo vado io ma cos'è sta roba che hai in mano? ci siamo e quella lì è la bussola d'oro cara serve a trovare a trovare l'animale spirito guida e poi a schiavizzarlo per far sì hai mai visto la bussola d'oro? no è un bellissimo film per bambini su quello che ho appena detto è esattamente quello che accade nel film ma fidati è un bellissimo film per bambini comunque è una bussola non so cosa serve effettivamente non l'ho mica capito perché più che altro non ha mai funzionato ahhh serve tipo per guardare qualcosa no sono solo allora il nome è no sono dietro di te oh allora non vedo niente figa è venuto un leggero cos'è che ha detto? il nome è Ein Hernández eeeh possiamo solo immaginare la provenienza Teo Hernández grande te abbiamo perso Pierluigi dove è andato? no no non iniziate a fare i pro venite qua venite qua è Pierluigi e allora è Pierluigi orca miseria ma la smettete di farmi orca puttana basta basta ma cos'è ma cosa urli? ma non avete visto che cazzo è successo? ma non è vero ma sei pazzo c'è un follo conosco un dottore bravo io sinceramente prima ho avuto un jumpscare mi fai a morire la tua voce sembra tipo preimpostata è adorabile cioè senza offesa è bellissimo eeeh ma quindi? ci offesa no no l'offesa fa parte del gameplay ragazzi serve a rinforzare gli animi allora qui non c'è un cazzo ragazzi allora ci siamo? è in Hernandez show yourself si però io non mi metto più di qua mettetevi davanti prima a voi va io sto qua guarda ti becchi solo tu i jumpscare eeeh carou 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 andiamo? dai andiamo giù no maestro c'è la voodoo doll volendo c'è la voodoo doll attenzione la voodoo doll l'hanno messa è qua aspetta ah allora aspetta dovrebbe si dovrebbe essere un è carina o parliamo? ma quando c'è quella roba lì dovrebbe esserci un demone particolare l'altra volta era succeduta no è la missione secondare è la missione secondare ah ok probabilmente com'è che si chiama il tizio? invece dei ratti ci sono le voodoo doll com'è che si chiama il tizio? o la tizia? oh che che è stato? è in Hernandez si ma io ho sentito uno spirito oh ma è tutto buio non vedo niente notare l'espressività dei personaggi che appunto amplificano ecco guardate notate l'espressività dei personaggi che amplificano il tutto incredibile questo che cazzo è? questo che cazzo è? questo che cazzo è? problema il nome è latino can you speak? io provo ad andare sopra Heisenberg attenzione say my name tu sei a a a bastardo? ma era c'è ecco perché? ok allora con calma ragazzi io vado avanti io perché tanto ormai il mio cuore è rotto quindi posso posso reggere tutto cos'è quella roba lì? se qualcosa corre sul soffitto me ne vado che cazzo? magno che è stato? oh oh attenzione 4 4 è qua è qua è qua è qua è qua ragazzi ci siamo no no è qua è qua è là tranquilli tranquilli 5 oh ok abbiamo la prima prova via la prima prova evidenza a posto prima prova andata quindi arriva il livello 5 di puttanaggine questo è uno dei parametri chiave vediamo se arca miseria secondo me insieme ce la facciamo ragazzi vediamo se riusciamo a trovare qualche impronta ok mi levo dai coglioni me ne vado eh lo so lo so io me ne vado no no me ne vado me ne vado mi dispiace mi sa che in quella stanza lì sono le attività c'è un'impronta qua sulla maniglia guarda con la luce ok abbiamo quindi anche le impronte il vetro si è crepato il vetro si è crepato il vetro dello specchio perché sono davanti allo specchio allora mani sulla testa si rompe ed esce qualcosa da qui non mi piace ragazzi no guarda no fissà ho messo ho messo quella della trappola a terra forse adesso fa l'interferenza statica state attenti ma dobbiamo dire can you speak? victoria vediamo se si apre no yeee ok ok e bretta se ne va allora con calma ragazzi allora abbiamo trovato le impronte quindi macchie di ectoplasma abbiamo tro sono le macchie di ectoplasma che abbiamo trovato o le come cazzo come cosa sono? eh macchie finger prints impronte digitali ok allora le metto nelle prove aspetta quindi per ora SG5 impronte digitale ne manca una ne manca solo una prova chi è che c'ha la tela? io 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 butta la terra butta la terra aspetta 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 pick quindi quindi di disegnare io a me è stato detto Fat Bonnie Bonnie allora a me è stato detto su youtube il più pensato il social più antico del mondo che è un pochino di trucchi cioè qualche consiglio al di là di quelli che abbiamo scoperto pian piano quindi che tutte le cose paranormali accadono in una stanza e quindi già in una stanza puoi capire che che mostro è eccetera eccetera allora dovesse comparire il mostro e dovesse cercare di ucciderci quello che han suggerito di fare è scappare ovviamente ecco appunto ha lanciato ha lanciato arca via 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 no 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 si salvi chi può la strategia è si salvi chi può fuori dai coglioni dei ratti no 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 si salvi chi può quella è la strategia ma un qualcuno che fa da esca ah non mi piace vaffanculo che cazzo succede le palene le palene senti le palene bene 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 perché mi continuo a prendere io i jumpscare non va bene non va bene non va bene non va bene qualcuno mi dia la candela mi dai la candela per favore così invito non vedo niente aspetta ti do la torcia dammi dammi l'altro questo viola voilà ok ok oh do you want to play hide and seek with me no 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 guardo qualcosa guardo qualcosa che cosa si una frase qua è hide and seek eh la frase qui è hide and seek ma sta piangendo qualcuno hide and seek dov'è io dov'è che era la frase you want to play hide and seek vuoi giocare a nascondino con me sarebbe questa frase qui c'è andato su youtube anche questa ah quindi quella lì hide and seek yes do you want a banana nascondino allora ritorniamo nella casa del demonio ah si è aperta da sola perfetto ci invita ad entrare gentile buonasera hello 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 salutatelo come fui salutato io tempo fa ciao figlio di puttani ha disegnato ha disegnato tutte le pro ok sappiamo che mostro è torniamo torniamo al garage via stiamo per morire è palese basta però mantenere il controllo è un onrio è un onrio spavento un orridino mi sento offeso ho paura ho i capelli i capelli verdi di Pierluigi mi hanno fatto cagare sotto male ho fatto un jump card silenzioso di quelli come cazzo sei arrivato tu come sei uscito scusa come hai fatto Pierluigi è il mostro Pierluigi è il mostro sono andato dritto per dritto sì ma attraverso i muri però no allora quindi bon quindi ditemi tutti gli indizi per favore allora per quadro fingerprints impronte digitali e sgc 5 basta che basta che scegli l'onrio comunque non c'è bisogno di metterli tutti clicca su l'onrio ok abbiamo l'onrio vabbè avete capito Pierluigi è il più pazzo guarda è il più pazzo eh non si è messi molto bene con la la sanità mentale ma no siamo a 80% quasi tutti Pierluigi no però Pierluigi è il 69 il Mao eh vabbè si sacrificherà per noi dai allora vediamo cosa dobbiamo fare dobbiamo fa fai in modo che il fantasma spenga la candela ma non dica buonasera raccogli le sfere fantasma cosa? e leggi la nota persa gli orbs come ci fanno a raccogliere gli orbs con le mani beh con le mani con le mani con le mani cia cia è un grande stimatore della cultura pop un vero cacciatore un vero cacciatore di fantasmi la bussola serve per vedere l'ectoplasma sul muro un vero cacciatore un vero cacciatore di fantasmi conosce il pop vabbè la candela ce l'ha quindi andiamo a far spegnere sta candela su vai prima ma la mia candela è certo e va bene se non volete morire vado dentro io dritto per dritto guarda se 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 qualcuno ognuna frase che cazzo un orbs lo vedo pensavo di essere orbo invece ho visto un orbs orbs ci dividiamo guardali presi mi è passato attraverso no 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 come funziona ne abbiamo interrato ne abbiamo interrato ne abbiamo interrato c'è un orbs c'è ne uno ne avete presi tutti ne ho preso uno ne ho preso uno ne siamo interrato quanti ne ok oddio presi 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 ho fatto uno strano suono forse sono tutti vado a vedere giù torno subito non vedo un cazzo non vedo un cazzo no perché no 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 dove sono mi sono perso dove sono dove cazzo sono fate luce fate luce ok ok fai spegnere la candela andiamo ritorniamo ho perso il numero madonna ho perso il numero fra a me è stata offensia a me è stata offensia che è stato cazzati incazzatissimo doveva andare nella stanza da letto secondo me è lì è lì è lì la donna mi guarda puntando in una torcia e dicendo dobbiamo andare nella stanza da letto non andiamo ritrova la nota maledetta la nota maledetta la legga la legga questa è benzina no è troppo lunga niente come è troppo lunga c'è scritto murder allora copritemi copritemi mentre leggo abbracciatemi tutti per favore una volta esisteva una bella donna il silenzio parte benissimo giovane e carismatica di nome margaret oh andrea mannaggia eccola lì era famigerata ma voleva diventare famigerosa anche se per tutte le ragioni sbagliate margaret era nota per la sua ossessione per i serpenti e il suo desiderio di una vita eterna la leggenda narra che abbia fondato un culto reclamando i miei membri come ma sta leggendo veramente certo ricatto addescamento perversione tutte cose di cui sono ecco nessuno sforzo è stato risparmiato ma non volete non volete approfondire che è quest'uomo ha in mano che sta leggendo ma perché non volete approfondire la storia del gioco ciao bro ciao bro vabbè no niente non approfondiamo un cazzo quindi mo deve spegnere ma questa qua se la getto giù rimane accesa ok bom la spegne lei aspetta ah è vero mi sa che si fa così aspetta allora però io non vedo niente quindi sarebbe gradito una fonte di luce se no impazziamo qualcuno mi può buttare giù una lampada un qualcosa va bene anche un cerino un incenso qualcosa pronto ma allora ce l'ho io in mano la candela dove la vuoi la mettiamo nella camera che era lì prima ma 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 datemi una cazzo di torcia per favore non c'è una torcia in più qua cos'è questa roba per te che cazzo è sta roba perché ho lo spirit box perché l'ho lanciato io prima quando non si arriva più io sto vabbè vi seguo io sono nella camera per fargli spegnere la candela si 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 ci siamo spegni spegni la candela rimettela per terra put the candle per terra ok per terra oh non c'è creda nulla tranquilli uno degli items che ci hanno consigliati di prendere è il è il croce fisso e perché ce l'ha con me ma che cazzo vuoi da me ma porca puttana vabbè però è stato meno spaventoso del necessario non ha spento la candela la spegna no non lo fa provo a cambiare stanza qui ma in realtà la spegne anche quando ce l'ha in mano come un'altra volta e chi la dice sta stronzata che cazzo è che sta succedendo mani in alto andiamo di qua io sono talmente ossessionato da questo gioco pensate che ascolto questa musica in ogni momento cavallo down calm down ma era là che mi parlavano mi diceva vieni qui e perché non sei andato perché no minchia no io sto fuori ecco bene magna no funziona con me guarda magna visto 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 funziona con me si c'è da dire che gli stai molto simpatico si guarda lascia stare allora dalla me sta cazzo di candela così la spengo la spengo io è vero perché ama Dino quindi dagli la candela guarda guarda spenta no pazzesco che trick boh dai bruciamo sta casa vai la buttiamo la buttiamo come anche la dice Aldo chiedimi se sono felice che mi manca mi manca la memoria ma l'hanno arrestato la radiamo in solo questa minchia di casa non è vero mi piace mi piace dare fake news andiamo nel baciamento vai nel baciamento ci sono riuscito ci avete creduto perché è nel baciamento perché è basico si ma ragazzi dovete andare avanti voi perché voi avete le torce io non vedo niente questa candela non è una menzogna è una menzogna allora la poggio qui ok che meraviglia sembra una copertina metal eh di qualcosa al contrario e cosa potrei dire grazie mille grazie mille grazie mille per il per il l'incipit non è il contrario questo è capito ditemi cosa devo dire e la dirò al contrario di 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 qualcosa al contrario è funzionato no è ancora acceso non sta funzionando ma perché non è qui sopra turn off de candela turnala turn off andiamo oh è sparita no la raccolta io non vedo non vedo dove siete oh dove siete mi sono perso ragazzi io non vedo niente mi date una torcia ce n'erano avevamo tutti quanti la torcia perché mo io non ce l'ho chi è che c'ha la candela ma allora e tu cosa usi ah tu e l'altro aspetatemi qui io girerò brutta la casa da solo e gli farò spegnere la candela addio andrea va bene io ti aspetto se tutto qua tipo un villain come un gatto fatevi un tè un caffettino vado è proprio un eroe mi terrò in contatto in contatto totale con voi che sta succedendo qui mi sto allontanando è bello che la voce si allontana sentiamo esatto fin dove arriverà finchè l'andrea va lascialo in sostanza vediamo se si vede da qui magari si vede da qui te ha odio eccolo non l'ha spenta che bello che nell'altra stanza e noi lo sentiamo comunque si perchè ha una voce da gallina incredibile è sempre stato il suo difetto lui è il famoso il famoso la famosa voce da gallina a cui si riferiva il famoso collega creators abbassa quella voce da gallina era lui era riferito a lui oh ho visto roba sulla televisione andre e andre come sta arrivando porca miseria sta arrivando sta arrivando sta arrivando sta arrivando sta arrivando sta arrivando non si apre la porta sta arrivando prendi lei prendi lei prendi lei prendi lei sta arrivando sta arrivando io non aiuto 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 no 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 oh cristo oh cristo no 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 prendi loro prendi loro funziona ragazzi eh dov'è l'ho vista l'ho vista è qua il corridoio questo perché non mi avete fatto leggere la nota ma chi è che ha rotto la luce è in cucina incredibile un fantasma beh è in herlandes provate ad aprire la porta a destra ok fuori dai coglioni via 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 e quindi se non spegne la candela come facciamo nella stanza dello specchio ci sono altre candele accese magari deve spegnere quelle ah attenzione perché Miria Miriamasia Andrea ascoltami allora Miriamasia dice che nella stanza dello specchio ci sono ci sono altre candele accese magari deve spegnere quelle prendi con quelle ok perché tutto completato così mi viene lo strabismo di venere se vi avvicinate così troppo ragazzi io ve lo dico in teoria deve spegnere quella che abbiamo acquistato precedentemente a noi sì quelle sono solo lì decorazione ah questo è un problema allora vabbè rientro allora leggete se un fantasma che attacca solo quando si è separato allora lascia lasciate la candela accesa e levatevi così ci è stato detto in chat cioè lasciamola lì e andiamo via ok allora andiamo nella stanza io farei una roba metterei la candela magari ah no ma la televisione che c'è in salotto che inquadra la camera da letto funziona in tempo reale è una ripresa a cazza perché massimo possiamo monitorarla se mettiamo se mettiamo la candela sul letto possiamo monitorarla si può fare quando compriamo le telecamere a treppiede sta cosa però non ce l'abbiamo in soldi francesco dice no deve spegnere la vostra alla vostra ok allora rifacciamo il giro rifacciamo il giro perché la mia idea era di mettere qui no di mettere qui la candela uno di voi entrava uno di voi si entrava qua vabbè vengo io dai comunque non so se avete notato ma abbiamo appena fatto esattamente tutti i personaggi di scubidoo cioè nel senso e andrea hanno cambiato un po' di cose è diverso adesso scubidoo da come te lo ricordi tu ho fatto anche la rima per ricordare appunto scubidoo la candela è ancora assolutamente integra no stiamo per no 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 merda 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 sare ho paura di quello specchio magna è qui è qui sta cantando dovete stare fermi non cedete figli di gondor sta non cedete alla paura sta cantando ma che cazzo morte seguite 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 la luce seguite la voce scusate era di qua vado ma che cazzo mi passate attraverso che sbocco ok mi sento i passi è qui nella cameretta del vestito e vabbè lasciamogli la candela e basta lo specchio lo specchio lo specchio spegni spegni la candela ti prego mi metto anche davanti mi metto anche davanti soffia auguri auguri tira le orecchie ma siamo sicuri che c'è quella la candela è qua sta arrivando ma è quella la candela eh si allora dai guardate bene andatele lasciatemi qui lasciatemi qui con lui lasciatemi qui chiudetemi dentro con lei penso io si vabbè con lei con lui non penso che sia opportuno ipotizzare il genere nel 2023 no di non sta camminando ho capito ma ragazzi io qua mi sto anche un po' rompendo i coglioni nel senso cioè vorrei che una certa venisse fuori perché credo che agisce da solo ah quindi quando sei da solo quando sei da solo eh allora ebbè eccolo eccolo infatti mi sa per attaccare ecco andiamo via 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 vabbè preghiamo tutti per il nostro compianto vedete ragazzi un demonologo sa che deve morire no come sei morto mollate a terra sta candela ma l'avevo letto il commento è spenta ragazzi tornate dal camper andate a vedere se è fatta se è spenta l'ha spenta ma Andrea sei morto sì ma non sei morto è là è accesa è accesa la candela ma porca di quella puttana io sono da solo e questo è morto no 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 ragazzi torna indietro torna indietro fidati io sono qua con te ma torna indietro ah ah prendi la candela no sto flickerando la luce è qui ah no 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 chiudi la porta vaffa culo no 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 non vedo non vedo non vedo scappate 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 no 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 sono chiuso dentro sta arrivando sono chiuso dentro no no fuck oh oh no dov'è no 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 ma ospetta no 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 corri perché non corre ciao ciao per aiuto Mi senti per lui Allora la candela è rimasta lì nella stanza Però non so se si è spenta Io l'ho vista accesa No, non l'ha contata come missione Perché è ancora accesa Qualche coraggioso deve andare a recuperare la candela Fatemi sedere Ma teoricamente se si spegne Si vedrà dal monitor Quindi io vi aspetto lì Al campo base E' ancora accesa Sì immagino immagino Capita Fa in modo che il fantasma Spenga la candela E poi è pezzo di merda Ma ormai non serve più a un cazzo Buttiamo giù tutto Sì sì siamo al campo Sto controllando la collezione di chiavi inglesi Andrea ti vediamo dalla telecamera anche se sei morto Guarda Che figata Che figata Forse ti possiamo vedere anche dalla telecamera del salotto Ma guardate Quella tele lì Quella tele lì Non è una vera telecamera E' un'idea che ti sei fatta tu Ti sei fatto tu Quindi finisci Ti spiego Ti spiego perché non c'è il vestito Quindi non è Esatto ma Non so Non so dove è uscita Sta leggendo a metropolità Ma Sarò un deficiente io Ma se c'è un monitor Che riprende quella camera Vado a pensare che qualcosa lo stia filmando Non è come pensi tu Non è come pensi tu Ma Attenzione Non è mai Per Luigi ti vedo Non è mai come Vedi fantasmi Giustamente Non è mai come può sembrare Bestiaccio Un vero demonologo sa La differenza tra la realtà Non possiamo andarcene Senza aver fatto sta roba Beh E' un ottimo senso del dovere La candela andrebbe Andrebbe recuperata Vai Ambretta Andribbi L'avete sentito tutti L'ho sentito solo io No tutti l'avete sentito Ha proprio detto Andribbi Oh no Perché stiamo andando Eh perché Ma si può anche evitare Si però Allora ragazzi Vi spiego cosa succede in questo gioco Quando voi Io sono davanti a voi Voi mi passate attraverso La vostra faccia Con occhi e denti Si bagga E all'improvviso Io vedo un teschio Che fa E fa veramente Cagare sotto Quindi per favore Non fatelo Aspettate Una alla volta Entriamo Ok Colpa di Ambretto ovviamente Perché è l'unica Corporea in questo Non va un cazzo Non va qui Ma io ho paura Signor Pierluigi Siamo già alla candela Venite Dovete venire verso la camera Ma è morto anche Luigi? La mia strada ci sono io Io posso rimanere qua Perché se no non agisce Vai tu Ma è morto a bandiera Eh si Ma io Aspè 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 Sta parlando È lì È lì Lo vedi? Come è lì Lo vedi? Più Sei morto a cinque di spade Prendi la candela del cazzo A posto Fagliela spegnere Spingila Ma non è che uno si deve sacrificare Per fargliela spegnere Ma che cazzo di suoni sono? Calm down Calm down Calm down Calm down Calm down Calm down Che succede? Calm down Calm down Calm down It's a fucking ok Ah Dino Non so se hai notato Che il quadro di In parte alla porta Quella lì rossa Si muove Si l'ho appena notato Di nuovo Ok Allora Se mi segue dovrà passare da lì Per passare da lì spegnerà la luce Arriveremo alla fine di sta cazzo di storia Ci sarà un lieto fine Torneranno a casa i nostri eroi Metti per terra quella candela L'ho capito Ma l'abbiamo già fatto E non ha funzionato Che cazzo è quella roba? Ah c'è la chat di gioco Che è successo? Pierluigi torna Torni da Ombretta Vado a vedere come sta È saltata È saltata la comunicazione? Allora io sono davanti alla candela Cioè Ti sto guardando praticamente negli occhi In questo momento Bene Ma quindi non riusciremo mai A estirpare Udemongi Perché Udemongi Ha deciso all'improvviso Di andarsene Furbo Blow the candle Andrà dimmi il nome dell'altizia Ayn Hernández Ayn Hernández Blow the candle please And fuck off if you want Blow my candle Com'è che si dice? Blow my candle Però abbia un po' di senso di rumorismo La signorina Ma è un uomo o una donna? Beh Anna Che cazzo Vabbè effettivamente potrebbe Non bisogna giudicare Devo fare questa cosa ma in camera Mi dite di fare E va bene Andrea sei qua con me? Vabbè vai in camera Sì sì Vai in camera a fare il blow Sono dietro di te vai Stop No 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 Blow the candle Eccoti là Ah È un gobbo Ah Devi portare Devi fare Una pazzetta Di portarla Ancora più dentro Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Sta zitto Blow the candle Per Luigi Eh? Ah c'è lei Umbretta è fuori Fuori in che senso? Uscita dalla partita? Non lo sapremo mai Che cazzo sta succedendo Che cazzo sta succedendo Io non voglio andare Alla dentro ragazzi Vado a vedere dov'è Non voglio andare Alla dentro Allora devi fare Devi fare una Di coraggio Prendi la candela E vai dentro la camera È l'unica È l'unica Fallo Blow the candle 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 Dove cazzo è G? Guarda Non stai resistendo Complimento Ho vinto Vedete ho usato La tecnica Dell'andata a gambero Per scappare dai pericoli Ed ha funzionato Perché anche questa volta Mi sono salvato Comincio l'ombretta ad entrare Così la useremo come esca Tanto non ci sente Vado 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 a prenderla Ma il bello è che Me e te Anche se siamo morti Blow the candle Ah Blow the candle Please Porca di quella miseria Pierluigi mai più Parlarmi ai timpani Grazie Grazie mille Per la comprensione Che cazzo Ok Candela spenta Che è successo? Che diavolo è sta Fai Ho un dito Ho un mano Ho un mano Un dito Ha spento la candela Sono vivo Sono vivo Ho un mano Un dito Un dito lunghissimo Tra l'altro Deve essere il famoso Dito medio Via 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 Esorcismo secco Sono Non mi ricordo quanti dollari in più ti va Ma che ci devo fare E non so come io non sia morto Allora con quelle dita lì Vai giù nel basement E le bruci praticamente Hai presente i vasi? Si Li bruci lì dentro Ok Si spenta Per esorcizzare il fantasma Trovate le cinque dito Deve ritrovare Il dito Il finger Di Anne e Nernande Se mettono nell'area Rituale del basamento Quindi devi andare giù nel basamento Grazie Grazie Pronto? Io sono messo al 7% Ciao 15% Attenzione Si 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 recupera teoricamente Non so come la mia sanità mentale si stia recuperando al momento in cui mi hanno un dito mozzato Nel mentre che ho appena visto la prova concreta che c'è qualcosa oltre la morte Però a quanto pare mi sto riprendendo Ma sei tranquillo Sei una persona tranquilla No no ma è in realtà che il cervello umano è una macchina eccezionale ragazzi Può 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 Dino Mangio Mi ha detto appena a mettere la piede dentro Ma sai che Ragazzi Io sto guardando questo dito qua ed effettivamente ti viene voglia tipo carota di È un vuberone È un vuberone dell'aia Che succede amica? Che succede? Attenzione alle convulsioni È stata presa Le convulsioni Allora Aiutami Ambrata aiutami a trovare le altre dita Io ne ho una Dovrebbero essercene cinque Le battute e l'opisensi si sprecano Noi facciamo i droni Noi facciamo i droni Ragazzi siete qui a recuperare la sanità mentale Io che Lui che si è morti facciamo i droni Eh Andrea Andrea il problema è che non si recupera Cioè io da zero passo uno Poi due Poi zero Vabbè aspettate qui Noi andiamo a vedere dove c'è un altro Dovremmo avere la candela Dovremmo avere la candela cazzo Lì in una delle cinque dita l'ha sorpassata Era sul mobile nel corridoio dove la poltrona viene mangiata dalla porta Ok grazie Shani Andrea Ah Andrea è andato Beh non lo saprà mai Attento è già morto Quindi sono Che è stato? Che è sto flash qua? Semana zero Ma c'è qualcosa sopra la tenda? Oh È Andrea Andrea? Ah no Ah no Il dito che c'è in mano si illumina Adesso me ne sono accorto Scusa Quali dito di mano Magari si recupera Possibile Che è caduto Che schifo si è piegato Vabbè lasciamolo Guarda Si piega Si ammoscia Non funziona niente Non funziona Ma guarda Ma guarda cosa fa il dito Che è tutto storto Si afflosce Incredibile Si Mi sa che il gioco ci sta dicendo Andatemene Eh? Il gioco Ci vuole far andare via Non sarà la sanità mentale Eh lo so Ma Devo dire che questo è l'unico Penso sia l'unico difetto di sto gioco qua Perché In realtà è un gioco che va a tempo Dentro tot tempo Devi fare le robe Altrimenti la sanità mentale Va giù e tu muori Qua dobbiamo andare di corsa Se tornano ci dicono dove sono le Stanno tornando Ragazzi Le vengono dati Allora Uno di voi deve andare dritto al basamento Io non posso Ce l'ho due Eh no Dovete entrare entrambi Perché se no E l'altro deve raccogli Oppure bisogna fare più viaggi Se non è bisogna fare più viaggi Allora niente Raccogliateli tutte e due Buttate tutto quello inutile Che ci avete in tasca A parte le torce E c'è Pronti E io ho soltanto Eh no Il dito ci serve Dove buttarlo Serve il cerve Ma al massimo Entra subito nel basamento E buttalo lì Poi dopo vai a prendere le altre E dove sono le altre? Allora il primo è Il primo è nel salotto Con la tele Quindi correte lì Vado Vai Io come faccio? Eh Vai ragazze Non ci preoccupi Eh oh Al massimo si crepa E si ricomincia La dura La dura esistenza La dura vita Di un demonologist Purtroppo uno Nella stanza di magna Te lo dite Lo spoiler Come? Allora vai Qua nel salotto Uno è qua nel salotto? Non lo vedo Eccolo Lo vedo L'ho visto Vado giù nel basement Merda 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 Mi porta fortuna Ragazzi Per questo si dice Anche in ambito teatrale Tanta merda Sto per impazzire La mia sanità mentale Sta calando La mia sanità mentale Sta calando Ragazzi Sto facendo avanti e indietro Come una brava formichina operosa Che porta dei pezzi di carcassa morta Alla sua regina Epico Come le posso prendere due alla volta? Ah beh giustamente Due spazi di inventario Si Ok Ok ce n'è uno nella stanza Del fai da te Dino 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 Eh Prendi le porte Lo tu io mo Dov'è? Dov'è? È lì per te È là davanti alla porta Della cantina Oh Dino Sta agendo Sta agendo Dio Scappa Scappa Esci Esci È chiuso Sta facendo il giro Sbagliato comunque No 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 È qua Dove cazzo è? Preso Eh vabbè Sono nel basement Sono nel basement Ce n'è andato Ce n'è andato Ce n'è andato Ce n'è andato Tranqui Tranqui Ce n'è andato Oh merda Oh merda Ok ok Mancano due dita Sta agendo? Esci Esci No dobbiamo uscire Sanità mentale a puttane Fuori Usciamo La porta è chiusa La porta è chiusa Questa è tutta una stronzata Un complotto di merda Dov'è? No 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 Non voglio stare qui Non voglio stare qui È andato No sta avvenendo verso di voi Merda E lo dici così Con sta calma Sta andando dritto Verso il salotto Tornate indietro Ma dove? Parla No no Andali 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 Da corrido yetto Ah va Stai fermo lì Stai fermo in cucina Stai fermo in cucina Ma che cazzo? Ma ditemelo Perché non si accende la luce? Non può finire così Ne mancano due Dove sono le dita? Allora uno nella roba del fai da te L'altro l'ultimo nella roba del magna Ti ricordi dov'è la fogna in numeria? Uno è lì Vado al magna? Vai al magna Vai al magna Ma è lì lui? No no C'è un dito là Lui non è lì Vado Sto andando al magma Seguitemi È qui È qui E il bastardo è qui Ah no 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 Merda Merda Corri Corri razza di impecini No 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 Io ce la faccio Eh la porta Non posso Non posso Non posso Per farcela dovete entrare entrambi però ragazzi Allora ascoltatemi Per farcela uno deve prendere un dito L'altro deve prendere l'altro Allora Un dito Gli ultimi due dita sono Se agisce da solo Andiamo insieme No no ragazzi Dovete 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 entrare veloci E correre subito al basement Allora Un dito è nella sala Della falegnameria L'altro è nella sala Del magna Allora Uno di voi va nella falegnameria L'altro va nel magna Prenda Prenda il dito Non so dove Posso chiedervi il favore Di urlarmi ancora più forte Nei timpani Per favore Grazie Va bene Ah Vai tu Vai tu al magma Al magna Aspetta Qual è quello più vicino? Falegnameria Allora Allora Aspetta Ascolta Segui me Ecco È andata No 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 Sto in cucina In cantina Ha chiuso la porta Non puoi più uscire È morto È stato divertente giocare in allegria È morto Il tempo volavi Addio Addio Amici In questo preciso istante Un nostro esperto Demonologio Demonologo Ambretta Sta cercando di esorcizzare il demonio Potete sentire di sfondo Le urla Di un sano lavoro Serale Pronto 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 La porta è aperta Permesso Io non entro Aspetta C'è la chat La chat Sì Torna in deitro Una cosa Dica Sei da solo E vabbè ragazzi Doveva succedere Ti ricordi dove è la stanza Della falegnameria Vero Ma E tu sei andata Ti ho detto Aspetta 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 Sei andata Sei chiusa la porta Sei morta Vedi Allora Adesso Voi dovete No Adesso parlo Adesso Cazzo Parlo io Allora Entrate là dentro Mi dite dove è lo stronzo Voi dovete fare i miei occhi E dove sono morta Dentro la stanza Dove devi andare Ok perfetto Ma si sposterà Il bastardo Quindi voi Andate lì E fatemi da vedetta Ognuno di voi Si mette da una parte Allora aspetta Andrea Tu ti metti Dove c'è La stanza di magna Io ti sto dietro Io ti sto dietro No Vuoi starmi dietro Starmi dietro Ok allora No no È meglio che ognuno Si mette in una stanza Quando uno di voi Di voi urla Io so in che stanza È geniale Capite Perché allora Che cazzo ne so Tu Ander Ti puoi mettere Nella stanza di magna E controlli Quel corridoio lì Qualcuno Qualcuno si mette Nella stanza Della falegnameria E qualcun altro Nella stanza Del basement E io faccio il giro là No ma il basement È inutile Il basement è inutile Perché non Non viene lì C'è stasù C'è stasù Stasù E non me lo potevate dire Tipo a inizio A inizio Di carriera Da demologo L'ho detto cinque volte Eh cinque volte Nessuno ti ha ascoltato Di chi è la colpa Vostra No evidentemente Non sei interessante Eh Allora Devi correre Prima di andare a magna Vai a quello più vicino Che è quello Nella stanza Della falegnameria Ti ricordi Dove è la falegnameria O devo dirtelo Me lo ricordo Me lo ricordo Vai lì Prendi quello E corri al basement Vai Vado Vado Io vado più avanti Per vedere da dove parte Ok io sono qua Nel corridoio Della falegnameria Vai non c'è niente Vai entra Dov'è il dito Qua 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 Appena entri a sinistra Appena entra a sinistra Ce l'ho Uno ce l'ho L'altro è magna Vai nel basement Vai nel basement Come basement Vabbè Si può andare a prendere già l'altro Ma allora Vaffanculo Ma scusa Deciditi Mi sto leggermente cagando Ok sono a magna Magna Dove cazzo è Qua sul tavolo Qua sul tavolo a destra Trovato Ce li ha tutte e due Torna indietro Dove è Devi correre Non corre Porta chiusa Non sta agendo Sono fantasmi Perché chiudere le ponte Perché è un metodo per mamma Lasciami fare Brucia tutto Dov'è l'altro dito Tira fuori Ho vinto E' fatta E' ma Adesso te lo ritrovi dietro Adesso possiamo andarcene E' stimi di altri E' fatta ragazzi E' fatta L'avevamo andato via Per sempre E perché non mi fido Comunque ottimo lavoro Dino Mi sono pre Bravo Bravo No Ma io sto male ragazzi Voi non avete idea di che infarto Mi è venuto Quindi in quattro In quattro è fattibile Perché ci va a tentativi Capito Ci sono morti tutti E l'ultimo ce la fa Incredibile Incredibile Perché non vedo l'ora di vedere I soldi che mi spetta Signori e signore Il demonologo Ok Per sempre Per sempre Abbiamo 2600 dollari Sono ricca Sono Minchia Minchia Comprova la telecamera Tra piede Così meno possiamo fare la roba Della candela Come dicevi tu Allora Ci hanno detto Ci hanno detto Di prendere il crocifisso Perché caso mai Riciccia fuori il mostro Tu col crocifisso Lo fai sparire subito E dicono che sia una delle cose più utili Dai consigli di YouTube Allora Uno con qualcuno Compri una roba L'altro compri un'altra roba Io ho 1100 1100 Perfetto Io compro un'altra Ma Non sapremo mai Esatto Ma scusatemi Io compro la macchina Ha fatto grazie Ma che livello Che livello serve Per fare l'altra mappa Tre Sì Il livello tre Oh cazzo Quindi dobbiamo fare un altro esorcismo C'è ancora l'uno Vabbè dai sentite Io prendo Le pillole Le pillole? Sì Prendo le pillole Ma volendo Io l'altra mappa Ce l'ho già sbloccata Puoi votarla? Sì Prova Eh ma credo che Siccome siamo Sono io ad ospitare voi Non possiamo farla Perché Conta il mio livello Allora dai proviamoci La vedo la puntina Ma noi non possiamo farla Ragazzi un po' alla volta Un po' alla volta Dai rifacciamolo E cerchiamo di Esorcizzare Udemongi E di farlo Nel minor tempo possibile Sono un neurone Per questo Per questo Precistante di ombretta Cambiate host No 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 Aspetta che Siamo troppo forti Non si può forti Squadra che vince Non si cambia Allora io ho comprato La macchina fotografica Me la porto dietro Cambiate host Intendeva dire Ho preso le pillole Sì ho preso le pillole Twitch contestualizza In senso ludico Ah ma cambiate host Nel senso Cambiate squadra E non lo so ragazzi O il tripod Prendete la camera La telecamera Tripod camera La candela Cambiate difficoltà In italiano Non ce l'ho C'è l'unico Io le lascio Dialogare in tranquillità Rilassiamoci un attimino Prendiamo un Cinque minuti di pausa Guardate L'occhio che mi vibra Per il leggero stress Di questa serata Cambiate squadra E' quello che volevo sapere Ragazzi Cosa dite di fare Chi altro di voi Ha il gioco Star Star forse Arrivo ragazzi Scusa sto parlando Con la chat Arrivo Ragazzi Chi di voi Sto infontando Perfetto Moderatori Fate partire un sondaggio Quel cazzo che l'è Per capire Chi Blablabla Gioca Chi ha il gioco Lasciate loro Squadra che vince Non si cambia Io ma non mi funzia Io Comunque allora Io mi sono messo Nel loadout La telecamera Puoi salutare il mio compleanno Ma certo Il tuo nome è andato Velocissimo su E non ho potuto salutarti Però quel ma certo E' la prova Che ci ho provato Ma c'è un bagno Guarda sul lavandino Cosa c'è Non cambiate che loro C'hanno i soldi Ma che vuol dire Io quando mi lavo i dei Entrare col telecamera Costa troppo Allora Andrea Ascoltami molto attentamente Perché ho sbagliato Ho sbagliato cosa Allora ragazzuoli Che cos'è Mamma chioccia Piano Troppo vicini Piano Allora Andrea Fai una bella roba Cosa dobbiamo fare qua Perché altre persone Vorrebbero giocare Giustamente Senza togliere nulla Ad Ambretta E a Pierluigi Sia chiaro Pierluigi e Ambretta Ce l'abbiamo fatta Sono dei campioni Rimarranno i primi Ad aver esorcizato Un fantasma con noi Facciamo entrare altre persone E vorrei Cioè perché anche gli altri Vorranno giocare Poveracci Poi Massimo Rifacciamo la partita Tanto succede niente Ma si Ma si Tanto non sarà L'ultima live Ragazzi Ne faremo anche altre Qualcuno al gioco Il 95% della gente Ha detto no però Quindi io non so Quanti Io non so Quanti di voi In chat Hanno il gioco E possono giocare Perciò Allora Buttali fuori Vediamo chi entra C'è non entra nessuno Oh se no Esatto Se no rientrate Va bene Grazie Facciamo così Dai Allora aspetta Facciamo così Ma grazie a voi ragazzi State scherzando Aspetta È solo merito È solo merito Il sacrificio di Ambretta Ricordiamo E come si fa qua Credo Lascia Lascia gruppo Ok E Andrea Adesso ti faccio un'altra Ah non mi sentirà È vero Non mi sente più Porca miseria Vabbè mi sentirà Attraverso la live Vero? La magica connessione All'italiana Allora Crea lobby Privato Quattro giocatori Lingua Italiano Globale Europe Crea Crea lobby Eccoci qua E nuova password Perfetto Ma in realtà È il maestro il problema Perché se ci pensate Non avessimo messo il maestro Avremmo dato più spazio a voi Per giocare Perché io a quanto pare vinco Il maestro invece Allora La password è questa Adesso gli rinvio Ole Vediamo se sta entrando Credo gli sia arrivato il messaggio Attenzione Il momento fatidico C'è Ha la conoscenza Credo stia entrando in partita Quella è la faccia di un uomo Che sa qualcosa E che sta per entrare Eccolo Eccolo Questa è la determinazione Ragazzi Guardate la determinazione Incredibile Pronto? Ci siamo? Forse sta per entrare Chino Gobbo Il suo obiettivo Su quello che è il Il suo strumento La vita Incredibile Eccolo 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 Mi puoi sentire Pronto? Pronto? Sì ti sento Bene Comunque Ti sentivo anche prima Quando hai detto che Io levo spazio alla gente Tu non lo sai Ma sono onnisciente Ma sono onnisciente Ok Va bene Andiamo avanti Quindi Chi entra? Hai messo la cosa a tutti? Pubbliche? Beh perfetto Vedete che mi sta dando risposta Immediato L'ho messo adesso Ok Entrate Che diavolo Ok Perché la gente Perché la gente mi spawna addosso? Sei sbiancato? Ma bisogna un vecchio giovane Perché è giovane ma è vecchio Ma no ma c'era un nudo dietro di te Attenzione Un fratello ritrovato Un fratello Chi siete? Oh mi si sente sì Comando Comando Salve Comando a lei Piacere E poi? Il signor ossigenato Anche io ho pelato Ok E il mutuo invece chi è? Ti ricordi? Ti ricordi Il pre del giorno Pronto? Da quello che vedo nella lista È il Dazzone Number one Chi è? Aspetta È il Dazzone Number one Number one Sembrava Iazzone Ci siamo allora? Ci siamo Monster grazie mille Non va l'audio Non c'è alcun problema Sarà il nostro Kevin Non c'è alcun problema Non c'è alcun problema Allora dai Basta che Ci senti però Mi piace Si vede quando scrive Perché si ferma Sì Perfetto L'importante è questo Ti presto la croce Allora Chi è che c'è la croce? E niente La comunicazione Ce l'ho io Ce l'ho io Ce l'ho io Ok 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 Allora Io ho Le pillole E basta Questo in sostanza Quello che deve avere Un demonologo Nella sua borsetta Deve avere le pillole Minchia ma quanti soldi avete No è che io ho giocato da solo E quindi Si prendono più soldi Non ho mai fatto un esorcismo Però Ah Ah da solo si prendono più soldi? Ma allora che cazzo Abbiamo aperto a fare il canale CoppTV Vedi Andrea Era molto meglio Qua da sé Fa per tre E quindi? E quindi Ci siamo? Allora Vuotate la mappa ragazzi Poi partiamo qua Dicono che è bellissimo il tuo accento Da dove digiti? Da dove digiti? No Io sono in Italia Però Sono spagnolo di provenienza Ah spagnolo Ok E io avendo il padre argentino No non so lo spagnolo Te lo dico già subito Però Riconosco Io faccio fatico a parlarlo Comunque prima di cominciare C'è una grandissima fan Che ti guarderà domani Quando Perché lei non ce la fa vedere Me la saluti la Gianna La Gianna? Grazie a lei che sono qua Gianna Gianna ok Certo Gianna È un piacere Bestiaccia Domani c'è? Domani Vado da lei Perché lei non riesce a guardare Twitch Quindi Ah certo Domani guarderà Lo vediamo dopo Indifferito Allora domani Vi faccio i saluti Ricordamelo però Perché mi dimenticherò Tutto Io sono fatto così Non vogliarmene Sono proprio io che mi dimentico le robe Oppure puoi farli adesso Puoi farli adesso E arriveranno nel futuro Li faccio adesso Che arriveranno nel futuro Ma gliele rifaccio anche domani Se ci sono domani Però non mi ricorderò un cazzo Quindi piuttosto scrivermi su Telegram Perché io faccio figure di merda Manette È proprio il mio È il mio stile ecco Allora mettete pronto ragazzi E che gioia ragazzi Che vi devo dire No è già pronto Sei tu che devi far partire Sei tu Ma che cazzo Ma perché sempre tutto sulle mie spalle Via Ci siamo Mi fa male Tutto Quindi sono pronto Oh Posso già notare Una fila di 32 denti Una lingua Dei capelli bianchi Fluo Elisa Jordan Chi è? È il fantasma Io sono altissimo Il mio pupazzo è altissimo Perché? Dove sono le pillole? Datemi le mie pillole Oh Eccole qua Ok Ho le mie pillole E fin qua il sonaglino Guarda che lo scuoto Il croce fisso È nascosto quasi Ah è qua Ok perfetto E Ma Non si vede Ma lo prendiamo dopo Quando serve a sto punto Sì sì Lascia La cosa La telecamera La possiamo mettere E poi si vede da questo schermo Ah ok Figo Quindi qualcuno poi può star qua Nel quartiere generale E guardare tutto È quello che volevi fare tu Con quella televisione Però tutti i temi Mace in testa È quella televisione Faccio vedere cose Che non esistono Comunque la telecamera Si chiama cam Cam 1 Cam 2 Immagino questa sarà La prendiamo su io Dai la mettiamo Nel punto Fatidico Ah ma è un telefono È un iphone È un Quel cazzo È un samsung È un È un Allora Vediamo dove In quale stanza è Prima di tutto E piantiamo il quadro Che tanto non dipinge subito Sono uno streamer Ma che roba Incredibile Ah sì Sì Andrea è bellissimo Guarda provala Vabbè Andrea La prendo io Va ho capito Grazie mille Non posso Non posso Ci hai provato Dai ci hai provato L'importante è provarci Ok Non vedo un cazzo E sento un strano suono Che è sto suono No eh Ehi Iniziamo già Figa È qua ragazzi Ve lo dico È già qua ragazzi Sì Sta parlando Andrea tu è lo spirit box Can you speak Can you talk Eccolo Eccolo È lì È lì Bene Ragazzi Ha interagito Con lo spirit box Mettete la prova Ok aspetta un attimo Che No ma dove cazzo Sta riprendendo Sta roba La metto in modo tale Che si possa Vedere qualcosa Fermi Che No di qua Così Che è stato Ok io ho messo giù la telecamera Così in questa stanza Teoricamente vediamo Allora Metti Più che altro Metti il dipinto Non ho Non ho il dipinto Vado a prendere il dipinto Ok 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 È qua È qua È qua È in questa stanza qua E mi sa che è in questa stanza qua Sì Perché sta succedendo di tutto Sì sì A proposito Ha interagito con lo spirit box Ragazzi Quindi mettetelo tra le prova Ma comando è uscito dal semi interrato Da quanto tempo eri giù lì? Nel basement No Era andato a vedere se era lì Con Con il rilevatore Questo qua Che ho buttato per terra È l'unica stanza dove mi ha dato Segnale Che sta bipando adesso È qua Ah ok Quindi è in questa stanza Buon Ci siamo Beh sì Lo deduco dal fatto Che sta buttando giù le pareti I mobili Questo lo dovete mettere all'ultimo Perché Porca di quella miseria No 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 Sapete cos'è quello? Cos'è? Ha reagito al piatto rotante Ah ok Il piatto rotante Sanità mentale Ma intanto ho le pillole Già quindi Già quindi Sta parlando ancora tra l'altro Lo spirit box Quindi parla allo spirit box Devo Ma debba Sei un idiota Ma ha già capito tutto Allora Parla Ha reagito al SG E allo spirit box Quindi non ci servono più Possiamo votarli Ok Oh comunque Super tecnico Vuoi una foto? Ah sto punto Come son venuto Benissimo Grazie Quindi? Scusami No aspetta un attimo Aspetta un attimo Fermi tutti Com'è che si chiama L'altro giocatore Perdonatemi Non so il nome Non lo sapremo mai Com'è che ti chiami? Chiamalo Kevin Ti chiamamo Kevin 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 Che non ha Dashone 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 Ti sei avvicinato Allora Non so che non hai il microfono Ma mi devi spiegare Perché il tuo personaggio Mi si è avvicinato all'orecchio Mi ha arruttato nell'orecchio E se n'è andato Cioè tu non hai parlato Per tutto il tempo Ma ti giuro Che mi hai appena Il tuo personaggio Mi ha appena digerito in faccia L'avete sentito tutti Io sono appazzito io Un ricordino Sì sì E se n'è andato via Questa è la clip Che voglio vederla anch'io Era fianco a me Era qua Fianco a me C'è una prova quindi Per identificarlo Facciamo la lampada UV Va bene Va bene Lo stava per rifare Oh Che cazzo Che cazzo che ha riso Quanta sanità mentale abbiamo C'è qualcuno che ha riso L'hai sentito È uscito È uscito una persona dal divano Ma siamo fuori dalla casa Non può Non può succedere roba fuori dalla casa Invece Aspetta che voglio vedere la telecamera Che sta riprendo La cucina Anzi la sala Ma che cazzo era È colpa mia Che ho lasciato il piatto rotante fuori E l'ho fatto uscire dalla casa Da Shuan Non me la racconti giusta Secondo me sei in combutta con loro Guarda che ci vede la Ci vede la Il salone Con la telecamera che è piazzato Vengo subito Shit Il dipinto è ancora È ancora Vuoto comunque Non so se ci vede Si dovrebbe vedere anche da qui Oh Comunque sono un cameraman eccesso Eh Una regia Porca miseria Allora dai Io allora prendo la bussola Provo con questo oggetto qui Che non è mai servito E torniamo dentro Vai L'ultima prova ci manca Va bene Mi fa troppo ridere Da Shuan Che se ne va tipo fantasma In giro per la casa Da Shuan è uno di loro Comunque io Qua dietro Dietro sto divano ragazzi È comparso qualcosa E ho qualcuno Non è servito solo un suono Qualcosa è uscito ridendo Com'è che si chiama il fantasma? Mi Elisa Jordan Mi Elisa Jordan Mi Elisa? Elisa Jordan Ah Elisa Jordan Where are you? Compare Compare for us Allora È comparsa È dietro di me Oh mio Dio Elisa Un demonologo deve sapere Che cosa dire Sempre Questa bussola qui Non ho mai capito Che cazzo dovrebbe apparire Si è spenta la luce Inchiudito La luce UV serve solo per le maniglie e le luci Prova a premere il tasto V ma non prende il microfono Ahia Non c'è problema Vai tranquillo Vai tranquillo Parla a gesti Ottimo Perfetto L'importante Ok ci siamo L'importante è capirsi Abbiamo tutte le prove? Allora non vedo No Ne manca una Non vedo niente Lì non ci sono tracce su questo mezzo busto No Bene Sulle Come si chiama? Sulle Si sta spostando roba E' qui E' qui E' qui Chiedo scusa Ah Si è acceso il camino Ci vuole tenere al caldo Ho visto qualcosa Dai dai che voglio portarmi alla casa Questa per la miseria ragazzi Ho bisogno Non va un cazzo comunque Ho bisogno Ho bisogno di fare almeno anche questo esorcismo Perché un esorcismo al giorno Guardi le cascette qua Che succede? Sta parlando Sta parlando Dov'è? Zitta Come zitta? Zitta Shut up Zitta Shut up Affrontami invece di parlare Ha detto che siamo il suo pane Andrea Ha detto Andrea Se stai zitto Appena detto I kill you Quindi io mi levo dai coglioni Lascio fare agli esperti E' stato un piacere No no io sto qua Io sto qua Lasciate la candela Ok lasciamo lì Tanto c'è la telecamera lì Che la riprende Allora In chat stanno sparando nomi a caso Di demoni De monji Lo leviamo l'SSG5 Perché non arriva a 5 Lo sbarrerei Ragazzi E funziona così Anche un esperto sa Oh Morto Come Ok Mi sa che E' morto Sono Ragazzi Mi dispiace Ma sono impossibilitato Soffro di un leggero caso di morte Morto Giuda C'è tantissima attività Comunque Si c'è tantissima attività Si si Allora Torna al campo Pure tu da morto Quello Sono io Beh però da morto Non ho paura Come no Non è vero Ho vinto i money Ragazzi E' successo Io nel mentre parlo Mi faccio un giro qua in casa Non posso interagire con niente Ma Vabbè Sare Che cazzo Sarebbe figo capire Se si può salire a piano di sopra Però Questo demone è potente Sì Perché si è ucciso Il demonologo più potente del mondo Eeeh Ragazzi Una leggenda Quali sono i dati appresi Chiedono Non scrive Che vuoi Andrea Ah io ero in casa Di là Mi stavo facendo un giro Da morto Sai che bello Allora Devo capire Devo capire Voi Prima di morire Ti sei accorto se c'era della condensa No Non c'era freddo Guarda Nell'esatto secondo in cui mi ha sollevato E mi ha spezzato il collo Devo dire che forse In quel momento lì Un po' di brividi di freddo Li ho provati Ah ok 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 A posto A posto Allora Le prove che Le prove che mancano In realtà Sono tante Io Io aspetterei Aspetterei un attimo Andre è presissimo Non so perché Eh ragazzi Sono morto io La situazione è palesemente Scivolata Di mano Cioè Parliamo Ma dove sei tra l'altro Dimmi dove sei Mi vedete Se fate in camera 1 Mi vedete Sono fuori Fai camera 1 Sì sì ti vedo Ti vedo Ah non vedo che cambi la telecamera C'è di fianco C'è di fianco Sono da fianco a Kevin Ti fotografo Vediamo se vieni nella fondo Aspetta che mi metto a fianco a Kevin Allora stai fermo Allora vai di di fianco a Dacione Ok ok Faccio una foto col fantasma Vai È venuta? No peccato Non si vede Peccato Vai cazzo Ci vede solo Dacione Vuitton in sottofondo Non è vuitton È itil ragazzi È feeling him Abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso Comado Mi sa No no Stavo investigando Stavo investigando La vedo dura Con la sanità No la vedo dura Con la sanità mentale Che abbiamo Andrea sei al 10% 14 Oh ragazzi No no ragazzi Ragazzi C'ho delle pastiglie Ho le mie pastiglie lì Ah dove sono Dove sono morto Andrea La candela La mettiamo per terra Non ne spegnetela Per favore Che quella ci dovrebbe far Ricuperare un po' Di sanità mentale Ok ok Tu ti porti le pastiglie in giro Non me lo dici Sei proprio Guarda C'è proprio un egoista Eh sì Guarda Poi fai da fregartele Tanto non puoi fermarmi Controlliamo Controlliamo subito Ma Andrea Potrei sempre spellerti Dalla squadra Vedi tu Mica adesso Mi prudono le dita Ragazzi Mamma mia Che sensazione bellissima Sarebbe l'esatto secondo In cui si sta inginocchiando Per prendere E si è da gioco E lì E lì E lì E lì Sono morto Ragazzi È fortissimo Ma come avete visto E alla fine È il karma Il karma A risolvere tutto E a bilanciare Quello che appunto È la bilancia Della giustizia Dopo avermi preso in giro È stato ucciso Questo è quello Che scriveranno Sulla sua tomba E niente Il maestro È deceduto Ovviamente Sono sconvolto Io sono solo Io lo so Che sono solo L'ultima prova Adesso ci provo A fare un giro Veloce Non è la mia serata Per le scommesse Mi dispiace ragazzi Ma qualcuno può Accendere una luce Non si vede un cazzo Un tarotto la luce Ciao Hai gli occhi Vuoti Ha trovato i tarocchi Grande Riesuscita me Riesuscita me E vai Riesuscita Che poi Riesuscita Scappa Scappa Dacione Ti proteggo io Non puoi Passare Sto arrivando Dacione Dacione muore Guarda che Dacione muore Eh ma anche tu però Cioè io te lo mando No No È diventato una puntata Sono un cornuto È diventato una puntata Di Corri Chiudi la porta Dietro di te Vai C'hai capelli Che sono Catarifrangenti Chiudi la porta Vai Sì ma non me fuori Aspetta Aspetta Pronto Oltrepassa Ah è vero Eh sono ancora legato Alla mentalità mortale Sei morto Eh lo so ma mi sento ancora Mi sento ancora mortale Effettivamente Ma cazzo vai che figa Eeeh 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 Casper è tutto un altro livello Adesso E entrare ed uscire Senza sentire niente Senza sentirne le conseguenze Non c'è niente Può uscire e tornare indietro Con i tarocchi adesso potrebbe Rianimarci Torno di là Però Che bella stanza eh Signorile Guardate che imponenza Nobiliare Eeeh Eh non si è più sentito nulla Mellon Chi è che Che sta succedendo Che sta succedendo Che sta Che sta succedendo Ma chi è morto Era Liblisch Era acceso Morti tutti Era Liblisch Cascione Fugga, vada la macchina Lasci perdere Non ha funzionato Vabbè, ci abbiamo provato Però almeno un esorcismo oggi l'abbiamo fatto E almeno un esorcismo al giorno, come ci è stato consigliato È stato fatto Direi che è una gran figata Ed è merito solo, solo mio Sì Assolutamente, assolutamente Maestro, l'hanno visto tutti in chat L'hanno visto tutti in chat Il potere però è nelle mani di Dashone Che non vuole uscire dalla partita Dashone, guarda come guarda Ok Mi fa morire, sono proprio morti dentro Sti pupà Sti pupà Bom, ragazzuoli, allora Ma no, ma Dashone Eh? Sì, sono già le 23, noi chiudiamo qua La prossima volta, ritornati in squadra Più pompati di prima, mi raccomando Cazzo, ma io ho già perso tutti i soldi che avevo Che fantasma era, ragazzi? Era un fantasma gorico Eh? Era un poltergeist così potente? Era un fantasma gorico, sì, sì Allora, bestiaccia, dicevo Infatti La prossima volta, vi aspettiamo belli Provonti per la prossima Per il prossimo esorcismo E niente, io Da Gimilione Grazie ragazzi per aver partecipato Grazie mille ovviamente per aver partecipato Tutti e quattro voi Poi dopo ragazzi faremo sicuramente una sorta di lista Per che così appunto magari ci sia Una lista appunto di gente che può entrare Troveremo un modo I best esorcisti Sulla piatta No, non in quella lista lì Una lista nel senso che la gente può prenotarsi per entrare Perché se no magari c'è gente che anche altre persone Sì, tipo un ticket Che cazzo ne so Più o meno riusciamo a fare dunque due esorcismi Mi inventerò qualcosa Sì, sì Più o meno riusciamo a fare due esorcismi A serata Diciamo A serata Ti sto avvicinando sempre È la prima durata tanto Perché c'era Ambretta che non voleva entrare Ah Ok, allora Buon, bestiasse Chiudo Passo e chiudo È stato un piacere Adesso ci facciamo del consueto Dieci minuti di chiacchiere E poi racchiudiamo Ciao ragazzi Comunque i vostri personaggi sono tutti traslucidi e sudati Vi dico solo questo Ragazzuoli È stato un piacere Comando Da Shona, giusto? Ciao bestiasse Grazie Grazie a voi 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 Ogni sera bestiasse Grazie a voi Allora aspetta che faccio Abbandona Olè Adesso il maestro Dobbiamo ricollegarlo di là Perché sennò non si sente O forse ci piace questo stato Di silenzio Eh? Che dite? Questa sensazione Di pace Che in inglese si dice Di pace Allora vediamo se riusciamo Andiamo a deattivarlo Pronto? Ciao Mamma mia Mamma mia Sei mancato a tutti Perché tu non lo sai Ma per tutta la live non ti si sentiva Io ho parlato da solo Quindi è stata una live Di delirio Assolutamente sì La follia Assolutamente sì Allora bestiasse Vi è piaciuta Questa puntata di Demologist Così Perché è organizzata così Un pochino meglio Si sta secondo me In cooperativa Eh? La qualità è Ottimo Voglio te Voglio te nella mia squadra La prossima volta Ottimo Ottimo Allora facciamo una roba Però adesso Mettiamo un po' di mossica Di sfondo E ci rilassiamo Tutti insieme Perché vi giuro che Mi sono preso Di quegli infarti Interessanti Perciò Niente Non c'è molto da dire Sto guardando i video Che mi sta consigliando Youtube E c'è un piccolo imbarazzo Dentro di me Un piccolo imbarazzo generale Quali sono i video Che ti consiglia Youtube? Eh horror Gli horror coreani Che Tipo The Soup The Soup AV Quello che mangiava La zuppa Per finire poi A gente Che recensisce Il suo animale Aquatico domestico Preferito Oppure A persone Che Costruiscono Ne colorano Warhammer Non so cosa stia succedendo E' rilassante Guardo quelli che restaurano No ma il fatto è che Non ho mai visto Nessuno di questi video E' proprio Youtube Che oggi è impazzito Ma forse perché ho sbagliato account Non sono entrato con CopTV Sono entrato con il mio Quello privato Che cazzo ne so Il gioco costa 15 euro Grazie mille Daxin Per Aver In questo modo Dimezzato Ancora di più La 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 prospettiva Di numerica Di giocatori 15 euro È un Menù 15 euro Ragazzi Mi fate conto Che sono all'incirca Tre pacchetti Di sigarette Dai Nel vostro Nel vostro Nel vostro Gergo da strada Tre pacchi di paglie Tre pacchi di paglie No è poco Devo dire che Tra l'altro È fatto molto bene In cooperativa Tira fuori il meglio Per quanto riguarda Il gameplay In cooperativa Però da 4 giocatori Perché da 2 Non succede un cazzo Andrea No da 2 Diciamo che Da 2 Esatto È molto più lento Poi hai poche possibilità Perché se muore 1 È praticamente finita Tre spinelli No No 5 euro 2 cani Ovviamente ragazzi Il fumo danneggia Gravemente Tutti Quindi Ci dissociamo dal fumo Quindi ovviamente Esatto Ci dissociamo da tutti 15 euro Io non li ho Ne ho solo 2 di euro Con 2 euro Mio nonno Pensa che ha comprato Una pianta Vabbè Diciamo che Si è fatto Il suo piccolo impero Scusate Ma che voi Che pc mostruosi Avete Requisiti Di sto gioco A me non va Su nessun pc In casa In realtà Io ho un pc Abbastanza medio Lui ce l'ha un po' più pompato Ma perché Alla 4000 Cioè scusami Tu hai un pc Abbastanza medio Beh no È vero Lo cambia No sai come Non mi ricordavo Una giornata passata Ad assemblarlo Con dentro Non mi ricordavo La 2080 Un pc abbastanza medio Porca troia 3070 ti 3070 E 4 banchi di ram Perché mi sono sbagliato a contare Un pc abbastanza medio Capito No Vabbè ragazzi Un pc potente Però comunque I requisiti Non guardate mai i minimi Che non vanno mai guardati I requisiti Consigliati Dovete andare su Pagina del negozio Ve li dico subito Dove minchia sono Richiede un processore Vabbè 64 bit Windows 10 Intel i7 Ro MD Equivalente MDFX Capito Andiamo C'è la scheda tecnica del gioco Se la vanno a leggere loro Andate Costa 15 euro Serve un pc da gaming Ragazzi BGTX 1600 C'è un pc da gaming Anche abbastanza Il gioco Il gioco Che grafica Cos'è Non è Unreal Engine 4 Penso sia Unreal Engine 4 Eh a posto Per un Unreal Engine Gira un po' su tutto Ragazzi Anche un pc Di 5 anni fa Ve lo potrebbe far girare Tranquillamente Minchia Assolutamente Ma Dovrebbe uscire un gioco Per playstation Che si chiama Humanity Te lo ricordi? Era Cioè Quello tipo Quello tipo del dio? No Uscì intanto Aspetta Vediamo un po' Se riesco Humanity PS5 C'era il trailer Ehm Bbbbbbbb Eh È già in 5 Veramente È È il 5 Questo di Demonologist No Non credo sia il 5 Ragazzi Cioè il 5 È una versione Molto 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 embrionale Devo uscire Questo gioco qua Ragazzi Che sarebbe Un puzzle game In sostanza Perché quello è Dove guardate Che puttanaio Dove Ti ricordi Andrea Questo Abbiamo visto il trailer Ma tipo un anno fa C'era di tipo Due anni fa Finalmente è uscito Tu si Che è l'agorafobia Che mi sta venendo E voglio vedere Che cazzo è Sarà gratuito Guarda La Games Week Sì sì La Games Week È proprio uguale Tu gigante Fatto d'oro Sì sì Me lo ricordo La gente che spinge Spinge Sì 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 Dicevo Dicevo L'abbiamo visto Tempo fa Sto trailer Però Siccome il gioco Uscirà gratuito Sul Playstation Bello Essential Se volete Provarlo anche voi Ma in generale Noi sicuramente Lo porteremo nel canale Il day one Per vedere che cazzo è Gli diamo giusto Quei dieci minuti consueti Perché è proprio Un gioco da dieci minuti Cioè Oddio Magari è il gioco Più divertente del mondo Solo che non si capisce Dobbiamo fare una indie night Una sera Un'oretta classica Due rette Magari va a finire Come and red Cioè che piace E lo si può tranquillamente portare Sì ma c'era scritto Credo che il cane Sia una sorta di spirito Che cazzo sto guardando Ma il cane che cazzo è? È quello lì Giapponese Lo sci Lo sci Non lo so Che cazzo è Andrea Lo shiba inu C'era una palla Che sparava persone C'è quanto costa lo shiba inu? Ah puoi farti anche i tuoi Non me ne frega un cazzo Andrea Non mi interessa niente Cioè senza offesa Io con questa storia Di quanto costano i cani Non me ne frega un cazzo Quanto costa il tuo outfit Cioè non mi interessa Dicevo Ma è anche VR porco Giuda Diventa un trip d'acido Col VR sta roba Ma è anche gestionare A quanto pare Puoi anche costruire i tuoi livelli Ma che roba Ma che è? Bello Ma bello o no? È tutto tranne che bello Però è curioso E ti curiosisce È un È altro È da provare C'è da provare È talmente strano Che secondo me È arte È arte È arte Quindi mai Mai 2023 Mai nel 2023 ragazzi Poi volevo dirti una cosa Andrea Volevo chiederti che cosa ne pensi Non so se lo sai Ma adesso Sta ritornando Cyberpunk Sì lo so Perché la CD Pro Sta chiacchierando Sulla roba dei GDR Quindi sai No non per quello Perché hanno rilasciato Degli aggiornamenti Che più o meno Stanno trasformando il gioco In quello che doveva essere Nel trailer Che avevamo visto Tempo fa Vi ricordate Quando il pupazzo Il pupazzo Nel trailer Tirava fuori due lame Dai pugni Poi iniziava a correre Sui muri Con i pugni E poi uccideva una persona Con i pugni e le lame E tutti Wow che figata Ecco Allucinante E stanno sticciando fuori Dei gameplay Interessanti Hanno aggiunto altri bug Non lo so Non ne ho idea Ho visto qualche clipina Su TikTok E devo dire Che comunque il gioco Ci sta Diciamo Sulla telecine Ah io non lo so Io questi giochi qua Li gioco su pc Perché per me Sul playstation Sarebbe infattibile Può fare anche col vr Su playstation Allora no È proprio No 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 Proprio no Mi dispiace Ogni tanto ha dei bug Ma nulla di che No ma allora Attenzione Adesso mi incazzo C'è anche un problema Allora Non è il problema dei bug Cyberpunk Il problema di Cyberpunk È che è stato venduto Come GDR Open World Per poi trasformarsi Dal momento in cui Non era un GDR Open World In un action Narrativo Perché proprio Hanno proprio cambiato L'etichetta su Steam Dopo un mese Dopo due settimane Che la gente Diario in PD Di merda Hanno dovuto cambiare Addirittura l'etichetta Del gioco E cambiare il genere Quando in realtà Doveva essere un GDR Perché Perché Non è quello Che hanno promesso Non so se l'hanno Erfata adesso Però Quando giocavamo noi Che era praticamente Al day one Ragazzi c'è le abilità Le perk Non servivano a niente Tu le compravi Ma non avevano Un vero effetto Sul personaggio Come un vero GDR Non servivano Praticamente a niente Io ho visto un video Di Sabaku Che aveva rotto il gioco Vabbè classico Quello di rompe i giochi Dove Il maestro L'altro maestro Appunto Andava a spaccare il gioco Con una sua build E niente Ma non è che lo spacca Lo spacca lui Con qualsiasi build Hacking Cyberpunk Diventa uno scherzo Beh grazie al cazzo È quello che devi fare Devi achiarare Il cervello della gente Ma allora che cazzo mi metti Allora che cazzo mi metti A fare la componente Gioco di ruolo Se alla fine Ma perché non è un gioco di ruolo Perché non è un gioco di ruolo Quello è il problema Magari l'hanno nerfata Sta cosa Hanno un po' livellato sta cosa A senso farci anche altre build Ma la cosa peggiore Era anche il fatto Che di per sé Le scelte Cioè immaginati The Witcher E l'albero di possibilità Che hai narrative E invece qua Una scelta che fai all'inizio Ti cambia il finale In The Witcher E invece qua Tu letteralmente C'hai tre romance di merda E cos'è Tre finali Neanche Qua no Qua al finale Praticamente lo decidi In base a chi ti scopi Fai il finale Letteralmente Sì e no In realtà Perché in realtà Allora Prendiamo l'esempio di The Witcher The Witcher Se fai una scelta Tipo a dieci ore di gioco Se fai quella scelta A centoventi ore Cioè nel finale È una conseguenza Qua in Cyberpunk invece Il finale è scelto Proprio nelle ultime fasi di gioco Cioè proprio alla fine Si decide tutto alla fine Quindi in realtà Le scelte che fai all'inizio Non servono a un cazzo Cioè quello è il problema E poi Comunque si chiama Night City è morta dentro Cioè è bella da vedere È una scatola bellissima Però se Ci Ci scavi dentro Capisci che è morta dentro Come città perché praticamente Un open world farlo Non succede niente Dark Deception L'hai già portato Aspetta un attimo Che non mi ricordo La ben gelo Ho già visto Ho già visto io ieri È quello gratis Tipo FNAF È quello gratis Tipo No L'ora non so Dark Deception Ai gratis Incredibile Dark Death Awaits Ed Criutomatronic Ah no Non mi piacciono Questi ragazzi Perché puntano tutti Sul jumpscare Non mi fai impazzire Sto First Person Horror Maze Game Oddio Potrebbe anche essere interessante Ah devi proprio correre No ma non c'entro un cazzo Con FNAF Andrea scusa E che tipo Anche un po' Di Pac Porca miseria no Però vabbè È un po' Un po' Da vomito Così veloce Abbastanza Abbastanza Da un sbocconite Però vabbè È gratis È gratis Sembra attratto Da un film di Wes Anderson Comunque Avrei detto di Lynch Mi ricorda Mi ricorda Budapest Grand Hotel E Vabbè 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 Tolto il discorso Tolto il discorso Dark Deception Io non so se adesso È messo meglio Cyber Dovrei riscaricarmelo E farmi Una rigiocatina Per vedere come è messo Però ai nostri tempi C'è Ai nostri tempi La polizia ti spawnava Di fianco Se facevi un crimine Te lo ricordi Allora Io La roba lì Contro ogni logica C'è veramente Ma quel gioco di merda Della Della Delle Delle storie Come cazzo si chiamano Delle storie Del nord Della tizia Piccolina Senza intuito Quello che sto dicendo Sì Ah ah Fremble Ah no Fremble Non mi ricordo Mi ricordo C'è scritto anche lì Uscita 2023 Non si Non si sa Quando esce Un gioco che sto aspettando Da una vita Però è uscito Poker Show VR Ottimo Ottimo Steam Quello me lo deve far sapere Giochi di cui Non me ne frega un cazzo Quelli me le devi mettere Sempre in In bella vista Bene bene Dai Va bu Vabbè stava uscendo Amnesia in realtà Come horror Crash Ricordiamoci Stava uscendo Amnesia Amnesia debunker Non esce a maggio Sai che Fai vedere Amnesia debunker Eh sì L'ho visto L'ho visto L'ho visto ieri Che sto vedendo le uscite Cazzo Asci insieme a Zemini A maggio Mese Attenzione ragazzi Sì Grassissimo Maggio Questo lo portiamo sicuramente Non è cambiato di un H C'è sto gioco Però ci sta Sono trent'anni Che è sempre lo stesso gioco Però è sempre lo stesso C'è sempre della stessa qualità Allucinante Anzi hanno messo l'ombra al personaggio Perché prima eri incorporeo Però devo essere sincero Amnesia L'ultimo Amnesia Che era Com'è che si chiamava? Eh non mi ricordo No Era tipo Dark Qualcosa No era Ash Mi ricordo più Dark Ascent No l'abbiamo giocato anche in live ragazzi Quello lì Quello lì che a me è piaciuto un botto L'ambientazione e la trama Però mi ha fatto un po' schifo Ah sì Quello del deserto della donna incinta Esatto Però c'è un nome Me l'ho dimenticato che era un'amnesia Era un'amnesia Purtroppo però di amnesia Non lo so Vabbè non era male Secondo me perché era molto Thriller psicologico Rebirth Forse era Rebirth Amnesia Rebirth Sì Amnesia Rebirth 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 Mi è piaciuto Mi è piaciuto ragazzi Ma aveva secondo me Poco di amnesia Questo invece mi ricorda Proprio il classico amnesia Sarà per l'ambientazione Quando è che esce Silent Hill 2 remake Mi chiedono quando esce Garden of Ban Ban Eh ragazzi c'è sempre scritto Coming Soon Eh ragazzi Questo è Questo è 2023 Il problema di Però l'ho giunto Un nuovo trailer Bello Lo stambusica Quello incarnito Quello Ma ancora Ma non l'abbiamo già vista Sta roba Ma è ancora vivo Il verdone Wrong Wrong Ah guarda come si sta Pian piano migliorando Ah che cazzo è Ma puoi fare il mostro No scusa No dimmi che è online Ti prego no Dai Minta pure Pure questi No ma perché lo Perché devono rovinare i giochi così Allora la cooperazione va bene Ma non in questo modo No ma forse Forse non è online No perché questo modo È una rottura di palle Cioè Il gioco horror online Deve essere fatto Che io e te cooperiamo Per uccidere il mostro Per scappare dal mostro Ma se uno di noi Fa il mostro Non c'è più l'horror Lo togli completamente Ti toglie Quella Quella Quel brivido Non penso Non penso C'è un attrezzo Quelle robe Eh sarà un attrezzo Boh non lo so Però è incredibile Come la grafica è migliore In ogni uscita Non la grafica Le texture I riflessi Degli uccelli Beh ma penso che pian piano Si skilli qui Madonna Ma no ma sei sopra L'ucce È incredibile Hai visto? Ah l'uccello diventa Mansueto Incredibile L'uccello diventa nostro Uccello confirm Suona male Suona male Uccello conferma Cosa ne pensate Di Ghostwire Tokyo Si ho visto Che sta uscendo Anche per Game Pass Hai visto? No non è finito Il trailer Ma tu ti permetti Sempre di Di intercedere Ma ti perdoniamo Eh si Ti perdono Io ti perdono Comunque cosa ne pensi tu Di Ghostwire Tokyo Che ce l'hanno chiesto È uscito Perché è uscito Per Xbox Ah è stata Una delle più grandi Delusioni Che abbia mai giocato In vita mia Penso sia stata Una delle pubblicità Più brutte Che Bethesda Non me ne Non me ne Non è di Bethesda Ghostwire Tokyo Come no Ghostwire Tokyo È di Bethesda C È in realtà È di Bethesda C'è È il publisher Non è proprio È il primo gioco Di Bethesda Dopo che è stato Acquisito da Microsoft Uscito prima su Playstation E adesso è uscito Ma quella è Quella è Deathloop Non è No È Ghostwire È Ghostwire Tokyo Sì Ma lo ricordo io Adesso è uscito Anche su Sì è di Bethesda C'è ragione Ma come fai Come fai a essere così Perché sono cose Veramente senza senso Cioè Bethesda viene acquistata Da Microsoft È l'editore Ok È il primo gioco Che esce Dove esce Esclusiva Playstation Cioè mi ha fatto ridere Sta roba Però vabbè Detto ciò Non vi siete persi un cazzo Perché secondo me Vabbè Grati sul pass ragazzi Se volete Scaricatevelo E giocatevelo Finché Per quanto Bello sia Dal punto di vista D'ambientazione Però vi posso dire Che come gameplay L'ho trovato abbastanza Noiosino Più che altro Perché sì è affascinante L'idea che con le mani Devi fare Il dottor strange Di sto Ma fidatevi Che dopo 20-30 minuti Ti caghi il cazzo Perché Vuoi fare Sì che fai Che fai le stesse robe Con le dita Mamma mia Mamma mia No Dai truppe Dell'obsidian Comunque vabbè Di Microsoft No Dai truppe dell'Arkane Gli stessi di Redford Che cazzo dico Ma c'era una notizia interessante C'era un argomento interessante Di cui volevo parlare Gli ultimi 5 minuti Ma non mi ricordo più Ce l'avevo qui Poi hai parlato Ma l'hai cancellato Che cazzo Ah è colpa mia Sì era riguardo Ah sì Il Game Pass Allora L'avevo vista dai player inside Star Wars Ma cazzo ma veramente Allora Gli studi indie Indipendenti Che stanno facendo i giochini Immaginatevi I giochini indipendenti Che molte volte Superano i AAA Per innovazione Soprattutto per tecnica E gameplay Ed è sì Questa è una verità Molte volte Sempre No Sempre no Molte volte Molte volte In questo periodo sì E certo che segui player inside Sono bravissimi E sono l'informazione Videoludica E dicevo Come cazzi dice Hanno detto Che C'è stata fuori Questa notizia Che gli sviluppatori Dei giochi indie Sono un po' Meno propensi Al Game Pass Perché hanno paura No Hanno paura Di essere sovrastati Dai AAA Perché in questo momento Il Game Pass Si sta riempiendo Di giochi AAA La gente di conseguenza Entra e gioca a quelli Non gioca ai giochi indie Quindi vengono surclassati Completamente Perciò si stanno Un pochino Scoraggiando Un po' lo stesso ragionamento Di chi va su Steam Non ti compra i giochi indie Si gioca ai giochi AAA Si però su Steam Però Steam È sempre esistito Una nicchia l'indie dai Però Steam è sempre esistito Con quel È sempre esistito così E ha sempre dato La possibilità Agli sviluppatori Di portare i loro giochi Quindi quando tu pensi All'indie Pensi a Valve Pensi a Steam Pensi che da lì Li puoi scaricare Al day one Capito Quello è il concetto Perciò rimane Una piattaforma sicura Per gli sviluppatori L'Xbox Game Pass Nasce per portare La gente sull'abbonamento Quindi ti mettono Sia i AAA Sia i giochi indie Ma i giochi indie Solitamente Soprattutto chi gioca su console Neanche li vuole vedere O neanche sa che li sta giocando Perché è tipo Dreadge Molte persone Lo stanno giocando Pensando che non sia Un gioco indie Ma che sia una roba Fatta e sviluppata Da Microsoft Per dire Perché è uscito Su Xbox Game Pass Scaricatelo per Dio Perché è un gioco Della Madonna Ma C'è anche su Switch C'è anche su Switch Esatto O Cult of the Lamb Queste robe qui Molte volte la natura Il gioco indie Non sanno neanche Che cazzo voglia dire Molte persone Non tutti Io parlo nel generale Ovviamente sto parlando di voi Detto questo I giochi quindi Vengono surclassati Cioè nel senso Esce Dreadge Benissimo Poi ti esce Dead Island 2 Tu che cazzo compri Da ignorante completo Da profano Vedi AAA sugli zombie E quello Di zombie che ci smarmellano Ogni imbammazzata Capito Cioè Effettivamente Sono due giochi Completamente diversi Ma effettivamente Lo sviluppatore indie Dice Sì ma cazzo Adesso c'è un parco titoli Talmente vasto Su Xbox Game Pass Con AAA Belli pompati Che io ti dico Il ragionamento Ha senso però Secondo me Dove cazzo devo andare Su Game Pass Secondo me Il Game Pass Dovrebbe a questo punto Fare due A suddividere Ulteriormente I suoi abbonamenti Sai che ha tolto Se non sbaglio L'abbonamento Quello base Ha tolto il periodo Di prova Da un euro Ma se non sbaglio Adesso ha unificato Tutto col gold Il meno costoso È quello Da 9,99 euro Ecco Secondo me Dovrebbe fare Quello meno costoso Con alcuni AAA Tipo 3 A 4 euro No Tipo quelli di Microsoft Tipo Halo E compagnia bella Che ok Però è tutti i giochi indie E poi c'è l'altro Dovrebbe fare un abbonamento Più costoso Così avrebbe anche senso Secondo me Con tutti i giochi Proprio tutti i giochi Quindi sia gli indie Che i AAA Magari anche in accesso anticipato Nel senso Li giochi una settimana prima Una roba del genere Che cazzo messo Esageriamo La Sony lo fa La Sony con il Plus Premium Lo fa sta cosa Tipo Hogwarts Legacy Si ha molti altri giochi Anche se non sbaglio Resident Evil 4 Remake Con il Playstation 4 Premium Potevi giocarlo Tipo 72 ore prima Comunque Ci sono anticipato E ci sta Non servizio in più Potrebbe farlo anche La Microsoft Con i propri giochi Non ci va a perdere Si potrebbe anche fare Vabbè Bestiaccia Insomma In sostanza Stasera è andata così Spero vi siate divertiti Giocare con noi In generale Ben giocato insieme Noi ci siamo divertiti Un botto E ce l'abbiamo fatta Siamo riusciti Grazie a voi A fare almeno un esorcismo Questo è qualcosa Anna Hernandez L'abbiamo esorcizzata Esatto Esatto Grazie mille per tutto Bestiaccia Come al solito Vi ricordo che il 2 maggio Se volete Ci incontriamo Al pub Americas Di Porta Ticinese 9 Poi dopo vi facciamo sapere Tutto quanto Dove Quando Come prenotarità E perché Esatto Esatto E niente Bestiaccia Grazie per ogni cosa Come al solito Domani Siateci che c'è Punto Dreadge Lo continuiamo E buona Ci vediamo domani Buonanotte E vi voglio bene Fate i bravi Fate i buoni Mi raccomando Mi raccomando E grazie per tutto Fate gli uomini Soprattutto Esatto Fate gli uomini Wow Dorna Ciao